Ci sono, prima da raccontare altri fatti, innanzitutto abbiamo visto nel fine settimana tornare una sorta di allerta da tutti i punti di vista, nel senso dal punto prospettico di chi li teme, dal punto di vista di chi li vuole aiutare sui migranti. L'obiettivo rimane sempre lo stesso, dare una risposta finalmente collegiale al traffico dei migranti che mette a rischio decine di migliaia di vite ogni anno. Ma questa volta intorno al tavolo di Trieste, anche se virtuale, c'erano i ministri dell'interno delle due sponde del Mediterraneo. Italia, Francia, Spagna e Malta, con la Germania presidente di turno dell'Unione e i commissari europei, si sono confrontati con i loro omologhi di Libia, Tunisia, Algeria, Marocco e Mauritania. Per la ministra Lamorgese è un passo avanti, maggior cooperazione di polizia e in accordi bilaterali da stringere con i paesi africani e insiste sulla necessità che sia anche Bruxelles a promuovere progetti per strappare i migranti dalle mani delle organizzazioni criminali. Gli arrivi negli ultimi quattro giorni sono stati più di mille, novemila dall'inizio dell'anno, numeri triplicati rispetto all'anno scorso. Oggi ne sono sbarcati 60 a Pozzallo e la ONG Sea Watch già diffonde l'allerta su un altro barcone alla deriva a largo di Lampedusa con 50 persone a bordo. Sull'isola sono già in 600, stipati in uno spot che avrebbe una capienza di un centinaio di posti. Ed è stato un mezzo Frontex ad avvistare questa mattina sei uomini già in acqua e un barchino con 11 migranti, tutti recuperati da una motovedetta. Mentre l'Europa pensa a una nuova chiusura dei confini esterni, l'emergenza per l'epidemia da coronavirus è materia di giornata nelle regioni del sud impegnate nell'accoglienza. Il Viminale si organizza così per isolare i migranti soccorsi in mare a bordo di navi o in strutture prestate e sorvegliate dall'esercito per il tempo necessario della quarantena. Un altro traghetto dovrebbe aggiungersi già nelle prossime ore al Mobi Zaza ormeggiato a Porto Empedocle e un immobile confiscato alla mafia dovrebbe essere messo a disposizione in Calabria. E' questa la regione dove si sono concentrate le ultime proteste. E' arrivato l'esercito oggi ad Amantea a presidiare la struttura dove sono temporaneamente ospitati i bengalesi risultati positivi anche se asintomatici. Si sono così un po' calmati i toni della protesta anche se i residenti continuano a chiedere che i migranti vengano destinati altrove.